Salve a tutti ragazzi, bentornati su Brick2Play e rieccoci qui con Kingdom in questo nostro secondo episodio. Siamo al settimo giorno e dobbiamo un pochino prepararci ai prossimi assalti perché abbiamo subito veramente diversi danni nell'attacco del quinto giorno, la prima luna rossa. Stiamo ricostruendo le mura, non abbiamo ancora molti soldi ma speriamo di ottenerne a breve anche perché appunto abbiamo riassoldato un po' di arcieri, un po' di cacciatori. Quindi speriamo che ci portino appunto un po' di dinero, ora in questo, subito nel primo giorno sarebbe il caso perché abbiamo bisogno appunto di, eccolo qui, soldi per rendere queste mura mura di pietra, come abbiamo fatto qui. Dunque qui c'è un cacciatore, ha dei soldi? No. Allora, mi avete consigliato di spingere i cervi verso i nostri cacciatori praticamente sorpassandoli e ce la faremo a sorpassare. Ok, spingiamolo verso il cacciatore in questa maniera. Perché il cervo dà tipo 5 monete, 4 monete, no? Questo è il genere. Quindi se lo spingiamo verso il nostro cacciatore. Uno. No, non l'ha preso. Due. Dai, prendilo. Bravo. Ok, abbiamo preso un po' di soldi. Con questi potremo potenziare uno dei due muri. La notte si sta già avvicinando ma ce la dovrei fare. Vi ricordo che abbiamo ancora da rifare un po' di attrezzi, eh? Perché ci sono ancora diversi cittadini senza un impiego. E dovremo fare altri arcieri. Non abbiamo i soldi, però. Vediamo se loro hanno qualcosa a darci. Lui sì, eh. Dai, almeno uno. No. Neanche uno. Voi sì, però. Neanche uno. Te. Niente. Non hanno preso nessun animale. Ok, ragazzi. Dobbiamo stare attenti perché queste situazioni di stallo sono molto pericolose. Dobbiamo praticamente basarci solo sui soldi che prendiamo inizio mattina. Quindi la prossima cosa da fare è sicuramente riassoldare un contadino. Attenzione che siamo rimasti a fiato corto con il cavallo. Dicevo, è sicuramente riassoldare un contadino la prossima azione da fare. E sta arrivando la notte. Ok, quindi ci riattaccheranno. Abbiamo il muro completato. Aspettiamo che il cavallo... Ok, si è ripreso. Ci riattaccheranno. Qui ci sono diversi arcieri. Bene. Perché comunque è il muro più debole questo. Eccoli qui che arrivano. E... Dai, ora. Dai! Non li prendete! Non è possibile? Ok, ok. Qui dovrebbe essere terminato l'assalto. Guardiamo di qua. Io faccio solo meno ma c'è il muro di pietra. Sono solo due qui. Ok. È andata bene. Questo cosa è? Niente che possa raccogliere. Ok, dovrebbe essere terminata la notte. O almeno dovrebbero essere terminati gli attacchi della notte. Questi dovrebbero essere riparati in maniera automatica dai nostri carpentieri. Ne abbiamo due. Uno qui e uno qui. Perfetto. È arrivata la mattina. Con questi soldi io direi di farci. Intanto un contadino che ci farà guadagnare bene. Un buon investimento. E poi arcieri. Non abbiamo più soldi. Bene. Quindi dovremo aspettare che caccino questi signori arcieri. Di qua non c'è niente. Meno per ora. Di là. Vediamo. Se magari riusciamo a rifare la stessa cosa e a tirare un cervo dalle parti dei nostri archi. Aspettiamo riprendiamo fiato nel cavallo perché se troviamo un cervo lo dobbiamo superare in corsa. Niente. Per ora. Qui dovrebbe esserci la scritta. Dovrebbe essere troppo lontana la scritta. Boia. Dove siamo? Ecco un certo attenzione. Ci proviamo a superarlo? No abbiamo finito il fiato. E ora ci avviciniamo anche al portale ragazzi. Aspettiamo di riprendere il fiato. Dai cavallino su. Ok. Surpassiamolo. Dai 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 dai. No non ce la faremo mai. Vabbè torniamo indietro vai ragazzi. Ah eccolo. Questo dove è? No. No. Maleditto. Ok. Facciamolo tornare indietro pian piano. Tanto ce n'abbiamo di tempo. Nel frattempo il nostro contadino dovrebbe avere anche fatto un po' di soldi. Vediamo se riusciamo a. Senza metterci tutto il giorno. Spingerlo verso l'accampamento. Perché i nostri arciari piano piano si dovrebbero spingere sempre più nel filtro della foresta. Ok. Andiamo andiamo andiamo. Ora ci siamo eh. Infatti dobbiamo iniziare a vedere le frecce. Eccolo una. E e e e e e. Ecco le monete che cascano. E questo vuol dire che il nostro arciere ha colpito nel segno. Tu hai dei soldi? No. Siete inutili. Ok. Quattro monete quindi. Quattro monete vuol dire altri due arcieri. Bene. Continuerò a fare arcieri perché abbiamo bisogno di protezione dagli attacchi della notte. Tu hai fatto qualche soldo berravissimo. Ok. Vediamo di. Assoldare un altro contadino. E di fare anche un altro aggiornamento se abbiamo abbastanza soldi ma non penso di questo nostro centro. Ci manca uno. Bene. Vediamo se uno di loro ha una moneta. No. Questo video dovrebbe renderlo tipo un castellino di legno. E' l'ultimo aggiornamento che conviene fare per adesso perché quelli dopo praticamente. Quello dopo dovrebbe essere quello di pietra e ci rende il castello di pietra. E a quel punto la mattina ci arriva solo una moneta. Quindi dovremo avere un'economia ben consolidata per fare quel passaggio. Quel salto in avanti. Ok. Iniziano a volare le frecce. Questo ci dovrebbe dare. Questo aggiornamento ci dovrebbe dare la possibilità di costruire le catapulte. Che costano tipo 6, 7. E ne possiamo costruire una per lato. E starà dove c'è la bandierina qui sul confine. Mentre con l'aggiornamento del... A parte questa la dobbiamo fare. Ora appena arriva mattina. Facciamo questa. Ok. Fendiamo i nostri soldi qui invece nell'aggiornamento del castello. Aspetteremo di fare i soldi dagli arcieri e dai contadini per fare l'aggiornamento del castello. Se non ci bastano questi. Sempre uno. Ci manca. Non dà il soldo. Grazie. No. Voglio io. Ok. Quindi ci manca una monetina. Questi hanno già ammazzato dei conigli. Sì che... Eccola qui la monetina che mi serviva. E andiamo a fare questo aggiornamento. Che dovrebbe essere immediato. Nostro primo castellino. E guardiamo se è sbucato esattamente. Queste sono le catapulte. Praticamente dovremo pagare questo per andare sul lato sinistro. E pagare questo per andare sul lato destro. Però non lo vogliamo ancora fare. Una cosa migliore da fare magari sarebbe ampliare questo. Nel momento in cui però avremo altri contadini. Perché così è ancora un investimento a perdere secondo me. Rendere questo migliore. Ci fa guadagnare di più. Però dovremo mettere un muro oltre. E un muro oltre vuol dire allargare ancora la zona di caccia. Allontanarla. Quindi dal nostro centro. Mettiamo qui. Allora perché praticamente qui possiamo fare un muro. Su questi cumuli di terra. E abbiamo un mercante. Salve. Però non ho i soldi per lei mi sa. Eh no. Ne manca uno. Mi aspetta. Vado a prendere un euro. Grazie. No. No. Non ce ne vado. Non ce ne vado. Arrivo. Arrivo. Ok. Soldi. Perfetto. Arrivo mercante. Intanto questo butterà giù l'albero. Mercante. 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 Venga al nostro villaggio. Venga. Venga. Ok. Quindi il mercante porterà un po' di attrezzi. Qualsiasi sia non mi va bene. Speriamo siano quattro falci. Qui possiamo farci un muro però. Effettivamente non so se... No vabbè. Buttiamo giù anche quest'albero allora. Perché deve essere lontano dagli alberi. Quindi buttando giù quell'albero ce la dovrei fare. Forse. Ecco un po' di soldi. Per noi è buono. Facciamo un altro contadino. Ma ce l'abbiamo cittadini liberi? No. Ok. Quindi sta arrivando la notte. Quindi non è il caso di uscire. Lo faremo domani. Anche perché sta arrivando il nostro mercantolo. E se il mercantolo ci portasse quattro falci sarei felice. Perché guardate quanti soldi ci risparmiamo. 20. Guarda il mercantolo. Eccolo qua. Siamo ancora all'imbrunire. Guardate questi arciari come stanno tutti qui. Ce ne abbiamo davvero tanti adesso. Però non è che li buttiamo via insomma. Qui abbiamo la possibilità di costruire il muro. Adesso lo faremo domani. E poi amplieremo questo. Quello lì ci permetterà di far dormire i contadini all'interno del mulino. Quindi guadagneremo di più perché inizieranno a lavorare immediatamente all'alba. E non dovranno fare il percorso per tornare ai campi dal castello. Però allontaneremo il muro dal nostro centro. E questo vuol dire che i nostri arcieri dovranno viaggiare un sacco. I nostri arcieri non staranno più qui ma staranno sull'ultimo muro. Dove non c'è nemmeno una torre da posizionarci. Quindi vieni arcieri muoviti. Muoviti arcieri. Arcieri non sei furto. Ok. Vediamo se... Mercante cosa ha fatto? Posizionato quattro martelli il mercante. Non era proprio la cosa migliore però vabbè. Dunque questa torre e quella di là dovrebbero essere automatiche. Automaticamente potenziate dal prossimo aggiornamento del castello. Quindi non ci spenderemo dei soldi. Mentre questa qui intanto prendiamo i soldi della mattina. Siamo al diecimo giorno ragazzi. Sta per arrivare un'altra luna rossa. Quindi non è il caso di mettere il muro lama. Eventualmente di potenziare questo. Che ho notato comunque è quello più attaccato. Cioè non è vero che l'altro è attaccato. Però questo è quello che difendiamo un pochino più così. Dunque. Le catapulte... No non è vero. Non vanno alle bandierine. Le catapulte vanno alle mura. Come gli arcieri. Vanno all'ultimo muro in quella direzione. Però sono lente. Fanno tanto male. Ma servono soprattutto... Nelle fasi più avanzate. Potrebbero fare già comodo effettivamente. Non è che ci sputerei. Però... C'avete qualche soldino per me? No. Comunque ragazzi. Non faccio questo muro. Perché semplicemente i nostri amici verrebbero a questo punto. Poi giù in fondo. I nostri arcieri. Quindi non... Non ci sarebbe più la torre. Intanto è fondamentale. Per difenderci. E... Boh. Proviamo a difenderci così. Abbiamo diverse arcieri adesso. Proviamo a potenziare anche questo muro. Già proviamo. Lo facciamo. Non è che ci proviamo. Venite miei mastri arpentieri. Che adesso siete in... 13. Ci sono ancora due martelli. Vero lì? Portate quei soldi. Grazie. Va bene. Ne prendo io adesso. Tu non hai niente? Vuoi? Tu hai qualcosa. Dai un coniglio. Ma vaffanculo. Ok. Torniamo in diedro. Qui hanno fatto il muro. No. Lo stanno facendo adesso. Se sopravviviamo alla notte andremo a cercare nuovi cittadini. Qui ci sono ancora tre martelli. Quindi... Non so se effettivamente li posso tipo raccogliere. No. Questo butto giù la moneta. Ecco la luna rossa ragazzi. Si sta avvicinando. Muovetevi. Muovetevi. Chiudete questo muro. Chiudete. 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 Ok. Via. Tutti dentro. Sta sorgendo la luna rossa. The blood moon. La luna di sangue. Non la luna rossa. Questi soldi li prendiamo perché se attaccassero velocemente li perderei. Anche se effettivamente potrebbe far comodo lasciare dei soldi per strada in maniera da ridurre il numero di nemici. Stiamo dentro vai. Lasciamo che sia. Let it be. Ok. Rientrate arcieri per favore. Più veloci. Grazie. Ecco la blood moon che arriva. Ah te mi sa che sei spacciato amico eh. Sei troppo lontano. Ok. Tu sei salvo. E tu. Non arriva niente. Ok. Andiamo a vedere di là. Perché l'altra volta hanno attaccato da destra. Ok. Sono tanti. Sono tanti. Sono tanti. Sono tanti. Ragazzi. Mi sa che è finita tipo. Sono tanti. E sono ben armati. Io sono una regina molto coraggiosa. E aspetto che tutti i miei cittadini. Oddio. Cosa sei te. Ah sì sì. L'avevo visto anche se io. Dovrebbe rubare uno dei nostri omini tra l'altro. Se gli riesce. Quanti sono? Sono ancora tantissimi. È arrivata la mattina. Quindi. Quindi niente. Perché continuano ad attaccare a quanto pare. Ma ci hanno già rubato abbastanza roba da evitare. Ok. Siamo salvi. Siamo salvi. Siamo salvi. Siamo salvi. Allora. Moneta. Moneta. Costruiamo il muro. Cioè ripariamo quello esistente. Moneta. Arciere. Moneta. No. Moneta lui. Arciere. E arciere. Ok. Facciamo questa cosa per adesso. Perché. Perché ne abbiamo bisogno di recuperare questi omini che sono stati perduti. Questo lo ripariamo. No. Mancano due monete. Tu. Moneta. Ok. Tu. Moneta. Tu. Moneta. Grazie. E vediamo di mettere altre due monete negli archi. Cazzo. I nostri. Mi sa che i nostri contadini sono morti. Cioè non sono più contadini. Uff. È stata dura ragazzi. È stata molto molto dura questa. E il fatto è che abbiamo pochi arcieri per guadagnare soldi. Allora questa è una delle tattiche che possiamo adottare. Cioè quella di essere abbastanza bilanciati. Fatta una partita sinceramente la cosa migliore da fare di solito è quella di strafare con gli arcieri. Continuare a guadagnare soldi con gli arcieri. E ampliarsi molto molto più avanti. Però ho scelto di iniziare in questa maniera appunto per farvi vedere come procede poi più avanti il gioco. Andiamo a riprendere almeno un altro soldino da un arciere. Dai. No. No 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 ragazzi. Stiamo senza un muro mi sa. Ho voluto riprendere tutti i nostri cittadini. E questo probabilmente è stato l'errore che ci porterà alla fine. Sempre che l'undicesima notte non sia con la sesta e non ci attacchi nessuno. Sembra strano eh. Però. O comunque ci attacchino talmente in pochi che anche senza muro riusciamo a difenderci. Perché ho riparato questo? Vabbè. Non è che qualcuno di voi ha un soldo per me eh. Ok ragazzi vediamo come va questa notte e poi interrompiamo l'episodio. Vi volevo informare di una cosa. Dal prossimo What's Next che non so quando arriverà perché ovviamente prima dobbiamo finire questa serie qui. Il terzo titolo che entrerà nella ehm nella classifica appunto per essere la serie successiva verrà scelto direttamente da voi. Da un'altra lista di titoli. Cioè praticamente in esclusiva sulla pagina di Facebook. Quindi se volete votare e scegliere il terzo titolo da inserire nel What's Next nel prossimo What's Next andate sul link che trovate nell'header del canale. Nella pagina, nella home page. E ehm. Insomma poi seguite le news che ci sono lì sulla pagina. Sicuramente pubblicherò una ehm un sondaggio, una cosa del genere prima del prossimo What's Next. Ok, questo poi comunque farò un annuncio a modo eh, con un video. Non succede niente, sembra che siamo fortunati anche stavolta. Che ci danno tempo di leccarci le ferite. Tra l'altro carpentieri non ne abbiamo più. Carpentieri non ne abbiamo più. Quindi dobbiamo fare sicuramente un carpentiere per ricostruire queste mura. E poi dovremo spendere i soldi per le mura fondamentalmente. Undici, dodicesimo giorno già, dodicesimo giorno. Ok. Carpentiere. E muro. Bene. Ok ragazzi, interrompiamo qui l'episodio. Nel prossimo episodio, sperando di riuscire a sopravvivere ai prossimi giorni, continueremo a ampliare il nostro legno, il nostro piccolo legno. E cercheremo di rimettere in piedi un po' di arcieri, cercheremo di aumentare il numero di contadini e di rendere il mulino di secondo livello. Quindi i contadini dormiranno là dentro. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, lasciatemi un commento e iscrivetevi a Break2Play. Un saluto a tutti da Nicolas, ci vediamo nel prossimo video.